La tradizionale cerimonia inaugurale ha aperto ufficialmente la festa del Carnevale 2020. Tra orgoglio, passione e tradizione dal campanile presenta la cerimonia anche il prefetto Ignazio Portelli. Scatta quindi la 221esima edizione del Carnevale storico di Frosinone. Oggi abbiamo dato inizio al rinnovo della tradizione del Carnevale Frosinate, soprattutto a quella che è la tradizione della Radeca, da una parte, e dall'altra della celebrazione di quelli che sono stati in realtà i contrasti che nel 1798 la nostra comunità locale ebbe con un tizio che si chiamava Generale Championnet. Se ci pensiamo bene, questa tradizione si rinnova ancora oggi con i fratelli, anzi con i cugini transalpini, con i quali i rapporti sono stati sempre di grande simpatia reciproca, ma anche a distanza di rispetto di quelle che sono le singole tradizioni. Allora viene da pensare come in questi giorni lo stesso Macron stia suggerendo, pensate un po' all'Europa, di dotarsi delle proprie 300 testate nucleari che in questo momento avanzerebbero a Parigi. Noi diciamo a Macron, con i nostri giovani, con i nostri bambini, con le nostre famiglie, rispondiamo con 300.000 corriandoli di pace, di goliardia e soprattutto di festa, perché forse è meglio parlare di tranquillità, di serenità che non di ricorso e ricorsi agli armamenti nucleari. È bello, è emozionante vedere questa piazza piena, piena di bambini, piena di persone, quindi significa che il programma del Carnevale è sempre più seguito. Un'inaugurazione che parte unendo quelli che sono i simboli della nostra socialità, che sono il campanile, la radega e il generale. Quindi l'inaugurazione parte proprio da questo, quindi dalla salita sul campanile da parte del sindaco, degli amministratori e della cittadinanza, brandendo la radica, si dà il via vero al Carnevale, questo Carnevale storico di Frosinone 2020. Un Carnevale che quindi porta sempre in piazza quelle che sono le nostre tradizioni, quindi diamo il via a quella che è una festa goliardica, ma soprattutto è un modo di stare insieme in piazza e dire non soltanto essi gli essi gli essi gli è, ma anche noi ci siamo tutti insieme per ribadire quali sono le nostre tradizioni, ma soprattutto ribadendo che siamo orgogliosi di essere sociali, quindi del campanile, della radega, del nostro Carnevale e orgogliosi della nostra città. Sì, allora oggi giornata di inaugurazione e siamo chiamati tutti quanti a portare ironia e allegria alla festa più attesa della città di Frosinone, anche se comunque rievochiamo quello che furono gli eventi in Fausti che videro Frosinone soccombere ai danni delle truppe francesi, noi siamo chiamati, come tradizione vuole, a prendere in giro un po' questi francesi che ci sono sempre un po' ostili e contrastanti. Lo facciamo con spirito di appartenenza, con orgoglio e con tanta passione lo facciamo e stiamo cercando di trasmettere tutto il ciò anche ai più giovani, infatti in questa settimana ci saranno degli eventi al quale verranno anche coinvolte le scuole. Buon Carnevale a tutti e ci vediamo martedì 25. Programma di festa ricchissimo che terminerà proprio martedì 25 febbraio, il giorno di Carnevale, con la sfilata dei cardi allegorici nella parte bassa della città e la festa della Radeca nella parte alta. Come va tutto a posto? Che ne pensa di questa città di Frosinone? Lei di dove è signor prefetto? La sua città nativa di dove è? Siciliano. Siciliano? Cosa ne pensa di Frosinone? Non c'è posto più bello al mondo. Meno male, abbiamo fatto giociano, allora quindi al Carnevale è dei nostri, al Carnevale è dei nostri. Non solo al Carnevale, veramente è tutto il resto dell'anno. Tu direi, vabbè a noi ci interessa il giorno del Carnevale. Questo è certo, questo è certo. Se fossi solo al Carnevale sarebbe uno scherzo, invece lo faccio tutto l'anno, quindi cerco di farlo in modo adeguato. Ok, grande, grande. Dica il coso, numero uno. Grazie, grazie generale. Grazie a lei, signor sindaco.